Ci sono politici e intellettuali militanti che da due anni cercano di delegittimare il governo. Sperano che con la maldicenza e con le falsità si possa determinare un'alternativa. Si rassegnino. Questo governo ha una missione, una missione da realizzare, cambiare in profondità l'Italia. E la Lega si assunta il compito di essere la forza che stimola e traina il cambiamento. A sinistra ha fallito su immigrazione e sicurezza, ma anche sulla scuola non è messa meglio. Non ha proposte serie, sa solo insultare e falsificare la realtà, come quando la Schlein accusa questo governo di sottopagare i docenti. Peccato che noi andiamo a chiudere due importanti contratti in due anni. Non si è mai visto nella storia della scuola italiana, quando loro per undici anni non hanno aumentato gli stipendi ai lavoratori della scuola. Quando poi ha qualche idea, sono idee vecchie e fallimentari. Abbiamo fatto una riforma dell'istruzione tecnica e professionale per dare più opportunità di lavoro ben retribuito e in tempi più rapidi a tanti giovani e più competitività alle nostre imprese. La sinistra ci accusa di voler sfruttare gli studenti per favorire le aziende e di creare una scuola classista. Dai tempi del vecchio Partito Comunista non si sentivano scemenze di questo tipo. La sinistra ha fatto ostruzionismo sul voto di condotta e sui lavori socialmente utili. Per loro, chi prende a pugno un insegnante, chi bullizza un compagno o chi devasta una scuola non dovrebbe essere punito, perché la punizione sarebbe autoritaria e repressiva. La sinistra non vuole restituire autorevolezza ai docenti, perché detesta il principio di autorità, che è fondamentale in ogni Stato democratico. La sinistra è contro la personalizzazione della formazione, vorrebbe un'istruzione uguale, identica per tutti, ma così impedisce di far scoprire, di far risaltare la bellezza dei diversi talenti e di dare vere opportunità di realizzazione personale e professionale ai nostri giovani. La sinistra detesta il merito, l'egualitarismo grigio che massifica gli individui e ancora di casa dalla Schlein. La sinistra è contro la norma che ho fortemente voluto per garantire ai genitori di ragazzi con disabilità di chiedere che il docente precario di sostegno rimanga accanto al figlio, se ha operato bene, per assicurare a chi è più fragile, continuità didattica. Hanno detto, Valditara fa entrare i privati nella scuola, vergognatevi, i genitori non sono i privati, non conoscete nemmeno l'articolo 30 della Costituzione. A proposito, un ricordo commosso per Semi Basso, un esempio per tutti e vorrei poter intitolare una scuola a questo meraviglioso ragazzo. Mi hanno accusato di essere razzista perché voglio una formazione potenziata e differenziata per quei ragazzi stranieri che non conoscono una parola di italiano, ma se vogliamo veramente integrarli dobbiamo far sì che possano conoscere la nostra cultura, i nostri valori costituzionali, la nostra storia, la nostra identità. La sinistra è contro le linee guida sull'educazione civica perché per la prima volta si dà alla parola lavoro e quindi al concetto di impegno un valore educativo, perché si riconosce finalmente la responsabilità individuale, mentre per loro la responsabilità è sempre solo della società, perché si valorizza l'iniziativa economica privata, mentre loro pensano ancora all'economia di Stato, perché si dà importanza alla proprietà privata, mentre per loro la proprietà è ancora fonte di desiguaglianza e quindi andrebbe tartassata. Questa sinistra fa fatica a capire che è con la crescita economica che si sconfigge la povertà, non con l'egualitarismo e con la decrescita felice. Nella scuola che vogliamo si devono insegnare non solo i diritti ma anche i doveri del cittadino e di chi vuole vivere insieme con noi. La Schlein parla solo di diritti, come se i diritti potessero esistere senza i doveri, una sorta di erbavoglio. La sinistra parla di legalità. Peccato che bisognava aspettare la Lega, questo Governo e questo Ministro per avviare una grande battaglia contro i diplomifici. La sinistra ci accusa di voler spaccare l'Italia, ma noi siamo stati il primo Governo, il primo Ministero a stanziare 325 milioni con Agenda Sud per dare a tutti i giovani del nostro mezzogiorno uguali possibilità formative e i risultati ci stanno premiando. Per la prima volta nella storia il tasto di dispersione scolastica nel mezzogiorno è sceso sotto il 10% anche grazie ad Agenda Sud. Ma noi ci stiamo occupando anche di quelle scuole, delle periferie, delle grandi città del Nord. Ecco perché altri 220 milioni per Agenda Nord. La sinistra è contro la valorizzazione dell'identità, della storia delle nostre comunità locali e contro l'idea di patria in nome dell'internazionalismo che distrugge le nostre radici, i nostri valori, il nostro passato, il nostro stile di vita. Così creano le condizioni per subire l'immigrazione senza saperla integrare. Io non vedo nessuna differenza tra questa sinistra e la tradizione comunista e talvolta anarchica che è la peggior tradizione politica della nostra storia repubblicana. Noi abbiamo un'opportunità storica, fare la rivoluzione della concretezza, del realismo, del buonsenso secondo i grandi valori dell'Occidente per valorizzare e difendere le nostre comunità e far tornare grande l'Italia. La Lega è l'asse portante di questa rivoluzione.